Ciao, hai una porta che cigola? No, no. Allora hai una serratura bloccata? Ma no, neanche quello, perché? Scusa, ma quello a cosa ti serve? Ma non è ovvio, scusa, devo sbloccare le maniglie dell'amore. Mamma mia, che il cielo l'aiuto. Ciao amiche, ciao amici, anche voi volete smaltire la ciccia e ridurre le maniglie dell'amore? Sì, ma come faccio? Ne ho parlato in questo mio video con i migliori consigli per dimagrire i fianchi e poi per recuperare l'autostima perduta guardate questo vlog dove sfatiamo il falso mito estetico che ci vorrebbe tutti i magrolini con le anche ossute. Eh sì, una bella elezione di autostima ci vuole. Bene, ora che siamo belli carichi è il momento di darsi da fare con un training mirato per dimagrire e ridurre le maniglie dell'amore. Ma io sono proprio fuori allenamento, come faccio? Poi non ho mai tempo di andare in palestra. Non c'è problema, sono esercizi da fare a casa. Basta un materassino da yoga, ho anche un tappeto in soggiorno. Sono esercizi facili, adatti a tutti e molto efficaci. Oggi ci aiuta Serena, mia carissima amica e socia da tanti anni. Qualcuno la conosce già come chef di alta cucina salutista, ma lei è stata anche una personal trainer. Ciao Serena, vai con gli esercizi. Ciao, iniziamo! Ciao, iniziamo! Ciao, iniziamo! Ciao, iniziamo! Ciao, iniziamo! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti